ragazzi fatemi gli auguri auguri tengo l'esame con maresciallo di maio e stavolta lo supero tengo tutte le risposte preparate mi sono nascosto domande di geografia domande di italiano domande di storie tengo tutto ma da domandare soltanto ecco il maresciallo in bocca al lupo caro guagliarulo buongiorno maresciallo vai da retro guagliarulo vai da retro guagliarulo non ti emozionare o per amore semplice semplice e vedrai che subito si passerà il di grado allora cominciamo le domande più facili ma chiaro quanti erano i re di roma 7 bravo guagliarulo vedi quando sei rilassato come sembra guagliarulo quanti erano quanti erano gli evangelisti 4 guagliarulo caini e belle che grado di parentela avevano fratelli bravo guagliarulo i mari più importanti che circondano l'italia i nomi nomi i mari più importante che circondano l'italia mar ionio r1 mar tireno s2 mar adriatico s3 mar zotto ecco il re mi trovo numeri più